Viviamo in un paese patriarcale, come ha detto Elena, la sorella della povera Giulia? Sicuramente il modello tradizionale è un modello ancora fortemente maschilista. Maschilista dobbiamo dire perché è un dato obiettivo che le donne a parità di lavoro, a parità di mansioni, percepiscono immediatamente meno degli uomini. È un problema sicuramente il fatto che le donne che vivono una gravidanza poi stentano a ritornare al lavoro. C'è molto abbandono per quanto riguarda la posizione di lavoro dalle donne che poi hanno dei figli. È soprattutto un paese in cui ancora oggi, l'ho detto più volte anche nelle campagne elettorali, un obiettivo che dobbiamo assolutamente raggiungere è scongiurare che quando ci sia un colloquio di lavoro solo a una donna che chiaramente è in cerca di lavoro, gli è inchiesto se ha dei figli, se intende far figli. Queste sono domande che vanno cancellate nei colloqui di lavoro. Senta, noi siamo nel G7, siamo uno dei sette paesi più importanti del mondo, più industrializzati. Lo sa che nella classifica dell'esperequazione uomo-donna siamo al 79esimo posto e nella rappresentanza politica della donna siamo al 64esimo. Tutti dicono, tutti i partiti dicono, sì bisogna aumentare la rappresentanza politica delle donne, però nel suo governo, nel suo primo, c'erano 6 donne su 19 ministri, nel secondo 8 su 22. Ha fatto un po' meglio Renzi di lei che ha fatto 50-50. No, allora ha fatto meglio ancora Meloni perché è Presidente del Consiglio a lei. Però vede, non è che possiamo dire che oggi abbiamo un Presidente del Consiglio donna e abbiamo risolto il problema perché adesso parte facili battute sul familismo di questo governo, sulla concentrazione, come dire, sugli interessi molto del gruppo più ristretto, eccetera. Il problema è un problema che non risolvi con una bacchetta magica. Puoi fare anche delle regole ancora più stringenti sul piano formale, però per avviare questi processi ovviamente occorre un'onda lunga e te la devi portare avanti in modo coerente e devi lavorare nel corso del tempo. Giorgio Meloni, nonostante alcuni accadimenti, qualcuno dice che sul piano economico con la finanziaria non ha mantenuto le promesse elettorali, adesso anche sul piano sociale c'è qualche problema, però il suo gradimento rimane molto alto. È brava lei o siete ancora poco bravi voi a dare un'alternativa? Guardi, se non siamo bravi noi, evidentemente lo devono dire coloro che si stanno seguendo adesso a casa e non mi permetto di dirlo, potremmo fare sicuramente molto di più. Sicuramente lei conserva una buona attitudine comunicativa e questo riesce un po' a mascherare. Tra punti di Giorgia questa postura, l'altro giorno è venuta in Senato in modo che sembra ancora una leader di opposizione, non sembra essersi resa conto che adesso è Presidente del Consiglio e non il leader di opposizione che arrogantemente viene e in Parlamento cerca di distribuire bacchettate. Adesso dovrebbe rispondere il suo operato. Se stiamo ai fatti, dico ai fatti, la situazione è davvero molto preoccupante perché non c'è un euro, dico un euro, per le imprese, per rilanciare il Paese e far ripartire la nostra economia. Aveva una Ferrari, 12% di PIL in due anni, adesso l'anno prossimo le previsioni sono in media di uno 0,5% di PIL, quindi siamo allo zero virgola. In Europa l'hanno applaudita, ma chi? I falchi dell'austerità. E quindi non ha nulla di che vantarsi. Oggi siamo passati a Giorgia Meloni che attaccava le agenzie di rating ancora nel 2018. Diceva che lei non considera le agenzie di rating perché sono società private che rispondono ai loro investitori. Oggi invece si vanta del giudizio dell'agenzia di rating e trascurre invece la condizione dei cittadini.